E ben ritrovati su Davide e Lolli97 ragazzi, oggi siamo qui per parlare di questa bestiolina Rurok Atlas 4.0 Finalmente sono riuscito a comprarlo, si l'ho preso con i miei soldi, non me l'hanno mandato per un video Questo video infatti lo faccio appunto perché sono stato molto indeciso se prenderlo o no Perché su internet non si trovava nessuna recensione decente che parlasse di quello che mi interessava a me Quindi della comodità, perché è bello e bello finché vuoi, però la comodità, com'è portarlo? Ne parlavano molto così e quindi non capivo mai nulla Quindi ho deciso di portarvi questo video dove vi parlo soprattutto anche dell'allaccio qui sotto Questo allaccio magnetico qua che mi rendeva molto titubante sulla cosa Ma chiunque l'abbia visto è molto titubante su questa cosa Però devo dire che mi sono molto ricreduto, sono molto soddisfatto Anche perché ovviamente di video di qualità di questo casco ce ne sono Però sono tutti youtuber sotto l'ala di Rurock Che non è più che parlarne lo mostrano Perché ovviamente è bellissimo da vedere, è inimitabile E capirete anche perché io me ne sono innamorato C'ha molte cose super comode e altre cose che proprio fanno smadonnare di brutto Però ragazzi se io sono qui oggi a parlarvene E faccio un video senza che me l'abbiano inviato gratis Senza che qualcuno mi dia qualcosa vuol dire che ci tengo Quindi ragazzi oggi vi farò sentire come al centro sociale Perché? Perché parleremo con i fatti Quindi avendolo provato, ok? E piccola parentesi per tutti i sessualmente repressi che sono all'ascolto Che mi vengono a commentare con Non si è capito qua Io parlerò di questo casco Quindi Atlas 4.0 E lo confronterò con il mio vecchio casco Che è questo Exo Scorpion 1400 Air Ok? Lo confronterò perché ho avuto modo di provarli per tantissimo tempo Tutte e due E di testimoniare il passaggio da uno all'altro Quale differenza ci sono? Quindi quando parlerò di questo sarà l'Atlas E di questo sarà lo Scorpion Perché se ogni tanto mi confondo e dico questo e questo Capite di quello che stiamo parlando Quindi invece di sfogarvi nei commenti Perché siete sessualmente repressi Ragazzi il mio consiglio è Fatevi una pippa Andate a Capito E poi guardatevi il video senza sfogarvi con Chi non ha colpa dei vostri fallimenti, ok? Continuiamo il video dove vi parlo di questo Allora mettiamo un attimo da parte questo E vi parlo di lui Cosa l'ha reso? Il mio casco preferito Inizio con i pregi E poi dopo avrò parecchi difetti da illustrarvi, ok? Adesso c'è la visiera ragazzi Visiera trasparente Normale con il pinlock montato Ho preso il pinlock, il supporto per la GoPro Ci ho anche montato il mio interfono Che è il cardo Freecom C'è qui sopra il video Che vi spiego anche questo un po' come funziona Rispetto a un interfono molto più economico Se vale la pena o no Quindi se vi interessa andatevelo a vedere Pinlock su questa visiera ragazzi Obbligatorio Obbligatorio perché a meno che non girate solo d'estate Se la utilizzate che c'è un po' di freddo Si appanna con niente, ok? O che prendete la visiera che hanno fatto Quella che si oscura da sola Che costa una follia Però ha già il trattamento Quindi non dovete neanche comprarci il pinlock Ha già il trattamento a tutto Non ho avuto modo di provarla Non credo che avrò modo Perché veramente costa un patrimonio Va bene così Va benissimo C'è anche quella oscurata in dotazione Che non è omologata per la circolazione su strada Ma noi non lo sappiamo E l'ho utilizzata molto comoda Finché non viene buio, ovviamente Però con quella oscurata Tipo è il casco dell'anno Cioè è una cosa che fa paura Veramente quando vi incontrano Si buttano dall'altra parte della strada E giù per un grotto Perché siete proprio imponenti Per la ventilazione invece avete Una regolazione interna Per questa parte Mentre sopra la regolazione è qui Aperto o chiuso In tutti e due i casi E devo dire che è molto Ma molto ventilato Quando l'andate ad aprire E a volte diciamo che Necessito di aprire anche un po' La visiera quando sono fermo Perché sono veramente soffocate male Però devo dire che è molto Ma molto ventilato Ha la protezione qua Ovviamente ha tutte le cose di sicuro E anche la chiusura magnetica Ragazzi Questa chiusura magnetica Vi faccio per farvi capire Voi quando ce l'avete addosso Basta che andate a cercare Questo pezzo E vedete Si è agganciato E non lo aprite più A meno che non andate a Tirare questa parte E si apre Ok? È un semplice gancetto Adesso ve lo farò vedere Anche zoomato È la cosa più semplice del mondo Però è in metallo Non so che metallo sia Ma è metallo Ok? Tenete presente la parola metallo Perché dopo ci sarà da ridere Comunque è metallo Quindi iper resistente Ci fanno vedere che ci sollevano varie cose Quindi Tanta tantissima roba Questa è la cosa più comoda Perché veramente Io che sono molto celebroleso Quando devo partire con la moto A volte mi capita di mettermi prima i guanti del casco E con l'allacciamento classico Ci si riesce Però si fa molta fatica A metterselo con i guanti Mentre questo Vi infilate il casco Fate Date una sberla proprio E vi si allaccia da solo Cioè Una cosa più comoda di quello Anche quando dovete scendere dalla moto In due secondi ve lo togliete Ve lo mettete Cioè Sembra Ma è una di quelle cose Che quando sono dovuto tornare al mio vecchio casco Mi è mancata Di più di tutte Come mi è mancata La comodità interna ragazzi Cioè io Adesso tiro fuori il mio vecchio casco Che è lo Scorpion Per chi se lo stesse È ancora chiedendo Allora Questo qui Ragazzi Ha dei pregi Ha anche dei pregi Rispetto a questo Di cui vi parlerò dopo Però vi devo dire Che questo qui Ragazzi Mi ha fatto Dannare Quando me lo sono rimesso Se io penso che con questo Prima di acquistare questo qui Prima di acquistare l'Atlas Con lo Scorpion Sono andato fino in Svizzera Con un MT-09 Ecco La moto che ho È un MT-09 2021 Quindi È una naked Non ho nessuna protezione Nessun cupolino Che mi pari Dai moscerini Dall'aria E tutto Quindi comunque L'aria la sento tutta E la scomodità del casco La riesco a percepire tutta Quindi Veramente Se vi dico che è comodo È perché è comodo davvero Con questo infatti Quando me lo sono rimesso Ragazzi Qua Mamma mia Mi pressava la testa In un modo che voi Non avete la più minima idea Cioè proprio È Mai più Testimoni I miei compagni di viaggio Che Anche per fare dei giri Di un'oretta Ogni tanto Mi veniva la nausea Non so per quale motivo ragazzi Cioè avevo I sintomi della gravidanza Utilizzando di nuovo Questo casco Perché mi ero abituato a questo Che ragazzi Ha degli interni Che quando ve lo infilate La prima volta È strano Ci dovete fare l'abitudine A forza di usarlo Ragazzi Diventa Cioè non vi accorgete Di averci il casco addosso E poi soprattutto Anche lo spazio Cioè la visuale Ha questa parte del naso Che vi rimane Riparata Ok Però Ha questa parte Che da vedere Non sembrerebbe neanche Però è molto più Espansa E quindi Per vedere magari Alcune dettagli Tipo per guardare Lo specchietto Che io ce li ho In basso Gli specchietti Con questo qua Li vedevo tranquillamente Con questo Devi sempre abbassare la testa Distrarti un attimo Da quello che succede Sulla strada Sembra Ma è veramente Tanta roba A livello di resistenza Aerodinamica Io pensavo Che fosse scomodo Con queste mega prese d'aria Cioè mi aspettavo Che facesse un casino Il cazzo ragazzi Ve lo dico molto sinceramente Quando mi sono rimesso Lo Scorpion Vi dico solo Che sentivo dei rumori Che io pensavo Che la moto Avesse dei problemi Perché dei rumori Che con questo Non avevo mai sentito Non ero più abituato A sentire Cioè Io non so Davvero Come ho fatto A stare tutto il tempo Con questo Veramente qua Dopo un'ora Mi devo fermare Togliermelo E farmi Quei 5-10 minuti Senza Perché se no Sto male Mentre questo Lo potrei tenere Un giorno intero E vivere con questo Davvero Veramente tanta roba Altra cosa La sostituzione Delle visiere Molto rapida In questo Con questo Ancora meglio Soprattutto oscurata Perché questo Trasparente Dovete vedere L'ingranaggio qua A modo E per l'aggancio Mentre Anche Questo qui È molto più facile Da cambiare C'ha i suoi triboli Che adesso vi spiegherò Perché è uno Dei lati negativi Che ho avuto modo Di provare Però veramente Tanta roba Poi L'aspetto estetico Ragazzi Questo purtroppo Nessun altro casco È Tamarro Bello Spaventoso Come questo Davvero Questo è una cosa Che Mai nella vita Questo Ce l'avrà Ma anche gli altri caschi Purtroppo E adesso rimango solo con lui Pronto per parlarvi Delle problematiche Che ho riscontrato Così parliamo anche Dell'assistenza Rurock Iniziamo con il primo giorno In cui l'ho ricevuto Perché ho aperto la confezione Sono andato per provarlo Ho visto bellissimo Me l'ho indossato un attimo Poi ho avuto La brillante idea Di cambiare la visiera Cambiare la visiera Basta Svitare Questi due cosetti Ma svitare Proprio Dare mezzo giro Vengono via Ok E poi mettere su quell'altra Cioè Semplicissimo Davvero la cosa più semplice Che possiate fare È cambiare la visiera Di questo casco L'unico problema È Questo Questo Meccanismo qui Questo meccanismo Ragazzi Mamma mia È pura Plastica Ok È qua che vi ho detto Ricordatevi la parola metallo Perché questo meccanismo È pura plastica Ho avuto la fortuna Di beccarne uno difettoso Che è composto Da due molle Vi starò facendo vedere Delle clip Per farvi capire Di cosa sto parlando Ok Il perno centrale Quando andate ad aprire Il casco Che fa lo scatto Ok Quando andate ad aprire I vari scatti Sono ammortizzati Da queste due molle Le due molle Che avevo io In una Da una parte Non Non facevano niente Quindi la parte Rimaneva ferma Fissa Cosa ho fatto Ho cambiato la visiera Ho aperto La visiera E Quando l'ho richiusa Ho guardato il casco Per farsi una foto Per Che ero gasato Cavolo Lo dovevo far vedere A tutti No No Perché c'era questa parte Che era sollevata Come non so cosa Se era Rotto Il perno L'ho dovuto utilizzare Per qualche giorno Perché ovviamente Io avevo la scimmia Ragazzi Cercate di capirmi L'ho messo a posto Con un po' di attack Usato senza le molle Che ammortizzavano Quindi avevo Meno isolamento Però comunque Era utilizzabile Tranquillamente E ho potuto provarlo Già così Che era Già devastante Poi Mi sono sentito Con l'assistenza Molto gentile Che nel giro Di 2-3 giorni Mi ha fatto ricevere Il pezzo sostitutivo Basta svitare Due viti qua Cambiarlo E avevo risolto Funzionava perfettamente Per fortuna Ho vissuto Con 2-3 settimane Di fobia D'apertura Della visiera Perché Sapete com'è Dopo che ti è successo La prima volta Per un po' Ti rimane questa paura Ma tuttora Funziona perfettamente Anche perché Ho anche altri Pezzi sostitutivi Quindi nel caso Ormai sono Sono dotato Ho capito Solo per il casco Però sono dotato L'ho utilizzato Due Due mesetti Diciamo Ed è sorto Il secondo E ultimo Diciamo Problema Qual è? Quando lo chiudete Va a fare il click Questa parte qua Fa il click Che si fissa Solo su questa parte Perché da questa parte Non ha nessuna linguetta Si fissa in questo gancio L'ho riuscita a vedere? Secondo me no Perché Non c'è più È rotto Perché si è rotto? Perché era Fottuta plastica E questo non è Avvitato così È messo con Un specie di rivetto Quindi Non ci si può fare niente Lo devo per forza Mandare in assistenza E voi direte Vabbè Sto una settimana Senza casco E sono a posto Finché in garanzia Me lo faccio cambiare Può capitare Cioè Avrei preferito Che le parti Come nel vecchio Casco che ho Vi faccio vedere Ve lo apro Qua potete vedere Questo È metallo Questi ingranaggi Sono tipo Fibra di carbonio Sono fatti in un modo Molto più resistenti E molto meno Soggetti A tensione Ad usura Durante l'utilizzo Potrei capire Che magari Per questione di sicurezza Questa parte Non la puoi fare in metallo Ma il gancetto Sì Cazzo Lo devi fare in metallo Non è che puoi Lo devi fare E quindi Cosa è successo Ho mandato Il casco All'assistenza Ok Fino a qui Tutto bene Se non fosse Che un giorno Mi chiama FedEx Il corriere Che ho utilizzato Io non voglio Diffamare nessuno In questo video Non voglio Diffamare nessuno Parlo solo Delle cose Come sono andate Allora Mi chiama FedEx E mi fa Ci manca il codice fiscale Glielo do Tutto a posto Ok Avevo già Percepito Che ci sarebbe stato Un leggero rallentamento Nella consegna Per questo motivo Però vabbè Succede no Error è mio Soprattutto Mi richiamano Il giorno dopo Dicendomi Ehi Ma manca il documento T1 Voi lo sapete Cos'è il documento T1 Perché Io cazzo Non l'ho ancora capito Porca puttana Vi spiego Cosa dovrebbe essere Il documento T1 È un documento Mi hanno detto Ci vuole questo Te lo deve fare Ogni regione C'ha il suo ente Che ve lo procura Comunque cerca su internet Lo trovi Ok Metto giù Cerco su internet Non c'era niente Assolutamente niente Che mi facesse capire Dove si trovava Scrivo All'assistenza Di Ruroc A Charlotte Gentilissima Su Instagram Che ormai siamo diventati amici Perché veramente È super gentile L'assistenza Ruroc Sotto questo punto di vista Ha tantissima roba Peccato che questa parte Non è in metallo Non so se Si è capito Ma ci sono legato Ormai a questo gancio Perché comunque Il casco Mentre andate Sta chiuso Non è che vi si apre la visiera Mentre state andando Però Capite che Fa un po' girare le balle Fatto sta che Charlotte Molto gentile E fa Tranquillo Ci penso io Mi mette in contatto Passa una settimana E inizia a sollecitare anche lei FedEx Perché non risponde più nessuno Due settimane Mi dice Per favore Prova a contattarli te Perché a me non rispondono così Abbiamo fatto una riunione E cosa è emerso Che il documento T1 Ragazzi Serve Per i medicinali Vi sembra un cazzo di medicinale? Secondo me no Mi è stato rispedito Dopo svariate mail Il casco indietro Quindi ho ricevuto indietro Da FedEx Il mio casco di nuovo Rotto Perché non è successo niente Per fortuna Come l'avevo lasciato Almeno quello Però sono stato un mese Senza casco Per colpa di FedEx Quindi Bruttissima figura Per fortuna Adesso Ruro Che è stato molto gentile Perché a me ha Però ha notato una sostituzione diretta Senza neanche farlo mettere a posto Me ne danno uno nuovo Con poste italiane Io Incrocio le dita E spero che vada tutto bene Comunque Avrò tempo di aggiornarvi Prima della pubblicazione del video Sotto questo punto di vista Ruro Molto gentile Anche se Mi aspetterei Un'assistenza Visto che comunque Il casco a un certo prezzo Mi aspetterei un'assistenza Che mi venisse un po' più incontro Dandomi magari Un casco prima Per non farmi rimanere senza casco Io ho proposto più volte Di pagare Una caparra Per avere un casco Prima Per evitare Di rimanere senza Ma non c'è stato verso Quindi anche sotto questo punto di vista Diciamo che È ancora molto acerba L'assistenza Quindi dovete andare incontro A queste cose Sinceramente Se ci fosse stata Un altro brand Che con un casco così bello Sicuramente avrei abbandonato Rurok E avrei provato L'altro brand Ve lo dico molto sinceramente Però Un casco così bello Comodo Non lo trovate da nessuna parte Anche perché Anche solo il meccanismo Di allacciamento Non c'è nessun altro casco Non c'è nessun altro casco Quindi male Purtroppo è andata così Ci sarebbe anche l'interfono Rurok Che io non ho preso Perché ho visto un po' di commenti su internet E non ne parlano benissimo Visto che c'è già questo Che ho pagato oro E ho adattato Anche su questo casco E l'interfono Della Cardo Con cui mi trovo benissimo Oltretutto E tutta la mia compagnia Utilizza questo Quindi Meglio di così Non poteva andare Visto che comunque Il loro tipo di interfono Funziona solo tramite bluetooth E non onde radio Quindi la compatibilità Era molto debole Ed eccoci qua La sfida definitiva ragazzi Con questo Atlas 4.0 Della Rurok Colorazione Crimson Tutti i video Iniziano con un unboxing Il nostro finisce con un unboxing Questo è il Secondo casco Che mi arriva Alla fine Non so come eravamo rimasti noi Perché è passato un po' di tempo Però me ne hanno mandato un altro Ho dovuto rispedire indietro il mio Con le poste Ci ha messo due giorni Per arrivare a Milano E sembrava consegnato Ero già Ero già contentissimo Intanto apro Per velocizzare i tempi Io ero già contentissimo Ma 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 Ragazzi Ovviamente Non è tutto rosa e fiori Perché è dovuto arrivare Dopo da Milano A I Paesi Bassi Ed Amsterdam Ok Ci ha messo Un'altra settimana Per arrivarci Dopodiché Nessuno Mi ha più detto niente Ho aspettato Fino a una settimana Poi ho ricontattato E mi hanno spedito indietro Quello nuovo Quindi magari ci volevano Solo due settimane Fatto sta Che ce ne sono volute Un po' Di più Voi calcolate sempre Tre settimane Se dovete fare una cosa Del genere Ve lo dico Che così Avete anche voi Idea Di quello che Di quello Qui andate incontro Comunque qua c'è Il mount Per la GoPro Del casco Visto che me l'hanno sostituito Me ne sono fatto dare Un altro Io mi sono tenuto Anche tutte le visiere E secondo me Non vorrei dire Ma non hanno fatto La mossa Di toglierle da qui Io l'avevo Anticipato Comunque Adesso provo ad aprire Questa scatola Direttamente Perché ci sarebbe Un'altra scatola nera Ma non si riesce È un maschietto Comunque Qua c'è la lettera Di vettura Per ridarlo indietro La prossima volta In più Apriamo qui E E E Bellissimo L'apertura Potete vedere Ci sono le montagne Le luci I sassi C'è un po' di tutto E Vediamo Vediamo se c'è Quello che ci interessa A noi Cioè il casco Ok Visiera Che questa penso Che sia quella Da sole Mentre qua C'è il casco Con visiera montata Ok Quindi ho Quattro visire Per il casco Due oscurate E due normali Di cui una Ha il pinlock Quella con la casa Che l'ho tenuta Poi per quel motivo Eccolo qui Signori Eccolo qui E Ha preso Qualche Bottarella Già non Non partiamo benissimo Però il casco Sembra ridotto Benissimo Mi è mancato Un po' tanto Dimensione L Barra XL Che fa due tagli In una E Wow C'è C'è anche Il La chiusura magnetica Le varie Etichette Testiamo l'apertura Vediamo quando ci metterò Un persisto Giro Allora Mamma mia Se è solido questo Ma l'hanno ridisegnato Furvi Furvi Bastardi Hanno rifatto Questa parte Non è più come quella Che avevo io prima È fatta in un modo Più intelligente Perché adesso Quando io lo tiro giù Sentite Si è già andato A loccare Prima questa cosa Non la faceva Quindi l'hanno Migliorato E Anche un sacco Secondo me Di brutto Perché rispetto a prima Proprio C'è adesso Anche quando è qua Un colpetto E si chiude Prima io Quando lo volevo chiudere Dovevo Mentre andavo Tiravo giù la visiera E poi dovevo Spingere ancora di più Perché non si chiudeva Adesso invece È molto più delicata La chiusura È sempre in plastica Perché Posso garantire Che questa È plastica Però È molto più Piccolino Questo pezzo qua Ve lo faccio vedere Da vicino Questo pezzo Che è qua Poi magari È una mia pippa mentale Ma non ve lo assicuro Perché Veramente Due secondi È chiuso Perfettamente isolato Adesso Ho una scimmia Per provarlo Che non avete idea Perché mi dà proprio Idea Che sia isolato Ma molto Ma molto Ma molto Di più Del resto L'unica cosa Che mi sembra strano È il fatto che No È isolato anche qua Perfetto Io ve lo dico Molto sinceramente Dovesse tornare A rompersi Ne compro un altro Perché non ce la faccio più A stare senza È veramente Il casco Perfetto E In tutto Veramente Per quanto Posso aver avuto Di questi problemi È talmente fatto bene Che Non riesco A farne a meno So che dovrei essere Arrabbiato Con la casa produttrice Perché Si potrebbe fare meglio E Ne sono consapevole Penso che ne siano Consapevoli anche loro Visto che La modifica Comunque l'hanno fatta Posso dire una cosa A me dà l'idea che Rega Si è tornato a rompere Rega Cioè io non sto scherzando Allora Tanta roba per la chiusura qua Ma sta parte in plastica Porca troia Rega Cioè guardate Guardate La La distanza Ok Mi levo la faccia Guardate qua Quanta distanza c'è In questo In questo punto Ok Lo vedete quanto è aperto È già rotto Si è già rotto Il gancetto Adesso io vado a togliere La visiera Lo faccio qui In diretta Ok Infatti da questa parte Non si toglie neanche dal gran che Ma io mi chiedo Ma le verificate le cose prima di spedirle Allora potrei avere un audio di merda Ma vi voglio fare vedere solamente il problema Visto che sono riuscito a toglierlo E non si nota che sia spaccato Quindi forse è ancora recuperabile Fatto sta che Vi faccio Per farvi capire Allora Questa È la parte funzionante Guardatela Se io applico un minimo di pressione Vedete che La molla funziona Ammortizza Una visiera non c'è più Da questa parte invece Applico la stessa pressione Non si muove Perché? Cioè avete ricevuto Non sarò mica solo io che ve lo segnala Cazzo Avrete ricevuto le segnalazioni Riaprite le confezioni Che non sono neanche sigillate E verificate Porca troia Io spero di essere stato il più chiaro Ed esaustivo possibile Nel caso abbiate ancora qualche altra domanda E prima di insultarmi Qui sotto ci sono i commenti Che non servono solo per insultare Ma nel caso io abbia tralasciato qualcosa Qualche dubbio che avete Prima di acquistarlo Qui sotto Scrivete E io vi rispondo il prima possibile Ovviamente se mi fate delle domande stupide Di cui ho parlato nel video E l'avete schippate Non vi cago minimamente Però Vi vengo incontro Nel caso abbiate guardato Il video intero Spero di aver modo Di portarvi altri video Credo che sia uscito Prima quello Delle frecce Quello delle frecce Si è già uscito Magari lo trovate qua Nel caso si è già uscito O uscirà nei prossimi giorni Per le frecce dinamiche Compatibili con tutte le moto Alla prossima Ciao Ciao Grazie a tutti.